Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Paranite. Oggi siamo con un mio amico, però non ha le cuffie per parlare. Si chiama sia Andrea sia Alessandro. Io lo chiamerò Andrez e alcune volte anche Aleksandrez. Quindi, certo fatto. Aspetta. Allora, prima che lo faccia. Allora ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e lasciate like. Se è Andrez, salta dopo se sei d'accordo che si devono iscrivervi al mio canale. E' sbagliato. Perché non me lo fa mai questo? No! Vabbè. Prima volta mi ho killato, ma la mia kill secondo me è stata più fila. Perché questa, secondo me, poi decidete voi. Andrez. Andrez. Sei pronto? Killato, sì! Ragazzi, mi sono allenato da ieri. Molto. Andrez, poi però dobbiamo fare un po' di coppia. Poi faccio arena con Cristiano, perché con te arena tu sei un po' più piccolo di Cristiano, quindi sei un po' più scarsino di Cristiano, quindi faremo coppia dopo. Qua manco un mirato. Per ora tanto sono forse... Adesso ti recupero, adesso non ti faccio più fare kill. Allora. Andrez, però non mi piacciono queste armi. Preferisco questa. Allora. 19 di vitale mutande Andrea lo sai che mi potevi shottare con un colpo a piccone Andrea lo sai che mi potevi shottare con un colpo con il piccone Facciamo allora vado da bananita Andrea esso ti recupero Nooo Andrea avevi pochissima vita ma a me mi diceva che eri bianco Ti volevo picconare Tanto mochi piccono Tanto mochi piccono Sono un ignorante Adesso però basta Adesso andrà il gioco più serio che posto Perchè adesso tra poco finisce la mappa e chi vince l'ultima round ha vinto tutta Noi 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 ma cosa hai replay hai attraversato il muro andrei ha attraversato il muro anche se si può attraversare andrei che vince questo round ha vinto tutto poi però andiamo in coppia e la play voglio ma perché c'ho 400 ragazzi guardate andrei a esserti a matto mi ma andrei ma io c'ho 400 di vita fermo vabbè hai vinto andrei forse ancora ritorna clicca cerchio che ritorniamo in lobby allora adesso facciamo coppia andrà allora metto coppia se metto coppia fai 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 il ballo più raro che hai quello dei bts vediamo se posso shoppare qualcosa oggi allora vediamo questo ballo che a me interessano i balli fa schifo che la forza sia con te tanto ragazzi c'è nel prossimo video forse l'avevo detto ieri vi insegno a rimborsare le cose su fortnite no andrea ma quanto sei gabbo andrea ti immagini che la canzone diceva ma quanto sei gabbo 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 ma quanto sei gabbo ma quanto sei gabbo allora è sempre nella partita alessandrec pronta a giocare sembra che sto parlando con il muro ma quanto sei gabbo ma quanto sei gabbo ma quanto sei gabbo tu sto ballo non ce l'hai allora andiamo a piazza in cuglia allora allora ragazzi adesso andiamo a piazza in cuglia cuglia nel prossimo video ragazzi farò un video di minecraft però senza lui non lo so adesso voglio un po' giocare a Fortnite se giocate a Brawl Stars nel prossimo video giocherò non stanzo non stanzo